25 maggio, dare la propria vita in riscatto per molti Gli apostoli hanno lasciato tutto ciò che è fuori di essi casa, areti, barche, campi, moglie, figli, padri, madri, sorelle, fratelli, amicisi e compagnie non hanno ancora lasciato ciò che è dentro di essi la ricchezza dell'uomo non è ciò che è fuori di lui ciò che è fuori di lui mai sarà la sua vera ricchezza la vera ricchezza è ciò che è dentro di lui anima, spirito, volontà, pensiero, desiderio, aspirazione se questa ricchezza interiore è data tutta a Cristo Gesù l'uomo diverrà veramente ricco di una ricchezza eterna se invece è data al diavolo l'uomo diverrà povero di una povertà eterna Gesù ha dato tutta la sua ricchezza interiore al Padre Suo e per questo suo dono ha fatto ricco il mondo di Dio il dono fatto da lui al Padre spogliandosi, annichilendosi, umiliandosi fino alla morte di croce realmente ha fatto ricco il mondo perché ha dato a tutti la possibilità di ritornare nella casa del Padre che è la vera ricchezza di ogni uomo fuori della casa del Padre anche se l'uomo è tutto è privo di tutto gli manca il Padre e questa è la triste povertà dell'uomo di oggi ha pensato che dichiarando la morte del Padre divenisse ricco di se stesso invece è divenuto uno schiavo del diavolo e della sua miseria è povertà morale spirituale ed anche fisica e come siete ricchi in ogni cosa nella fede, nella parola, nella conoscenza in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato così siate larghi anche in quest'opera generosa non dico questo per darvi un comando ma solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo da ricco che era si è fatto povero per voi perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà e a questo riguardo vi do un consiglio si tratta di una cosa vantaggiosa per voi che fin dallo scorso anno siete stati i primi non solo a intraprenderla ma anche a volerla ora dunque realizzatela perché come vi fu la prontezza del volere così vi sia anche il compimento secondo i vostri mezzi se infatti c'è la buona volontà essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede non si tratta infatti di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri ma che vi sia uguaglianza per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza perché anche la loro abbondanza supplisca la vostra indigenza e vi sia uguaglianza come sta scritto colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno seconda corinzi 8 7 15 se gli apostoli vogliono essere ricchi grandi sopra ogni altro devono come Gesù liberarsi della ricchezza dei loro pensieri e dare anche loro la vita e il riscatto per molti non possono giocare come i grandi in questo mondo si pensano grandi ma sono poverissimi non riescono a fare ricco alcuno la ricchezza nasce dal dono della vita mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti coloro che lo seguivano erano impauriti presi di nuovo in disparte i dodici si mise a dire loro quello che stava per accadergli ecco noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli iscripi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani lo derideranno gli sputeranno addosso lo flagelleranno e lo uccideranno e dopo tre giorni risorcerà gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni i figli di Zebedeo dicendogli Maestro vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo e gli disse loro che cosa volete che io faccia per voi gli risposero concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra Gesù disse loro voi non sapete quello che chiedete potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato gli risposero lo possiamo e Gesù disse loro il calice che io bevo anche voi lo berrete e nel battesimo in cui sono battezzato anche voi sarete battezzati ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo e per coloro per i quali è stato preparato gli altri dieci avendo sentito cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni allora Gesù li chiamò a sé e disse loro voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono tra voi però non è così ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire ma per servire e dare la propria vita il riscatto per molti la logica di Gesù Cristo e quella del mondo sono diametralmente opposte Gesù dona Vergine Maria Madre della Redenzione Angeli Santi fateci dono di vita per molti grazie a tutti grazie a tutti